top di giornata da pescare in serie b di futsal girone f lo merita pienamente la chaminade di paolo pizzuto che è andata ad espugnare il campo della shoring soccer con un netto 7 ad 1 al top generale facciamo corrispondere un premio particolare da attribuire senza mezzi termini ad umberto caruso capace di trascinare i suoi con 4 gol che stiamo rivedendo complimenti ad umberto che a potenza ha deciso di mettere la marcia numero 4 flop di giornata all'agnone vittima delle furie della san benedettese che ne fa 5 malcapitati granata per la capolista decidono le reti di sabatino sorrentino pezzotti e la doppietta di pitone ad allorcire la sconfitta granata i gol di chiocchia e marolda ma sulla strada degli altomolisani è stabilita un'altra trasferta non proprio dolce quella di san nicolò che si chiama